Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio e mi sono un po' portato avanti ho craftato alcune cose vi faccio vedere in questo modo si crafta il crucible poi in questo modo si crafta il taumic infuser e in questo modo si crafta il quesitum ok ora andiamo in questa stanzica qui andiamo qui e ci mettiamo a terra allora il crucible lo piazzichiamo qua per il momento poi magari li spostiamo qua ho fatto una stanzina dove ci metteremo il quesitum il quesitum no il quesitum lo mettiamo dall'altra parte il quesitum lo mettiamo dall'altra parte ma si va bene anche qui dai ci mettiamo il quesitum e qua ci mettiamo il nostro infuser te la tankete ora ci serviranno dei tubi fai zitto salutiamo anche l'alieno ci mettiamo dei tubi che si craftano in questo modo allora ci serve della redstone della redstone del cavolo della redstone e dai ah ok pirletta sono un po' di ciecato allora ci serve della redstone poi ci servono dei vetri quelli piatti quelli piatti quelli piatti facciamone 12 ok che è sto casino grazie andiamo qui e facciamo 3 3 poi 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 della redstone in mezzo e il legno ai lati voilà avete visto sarà al contrario porca trota tanto io mai sbaglio sempre ok facciamo i visconduit i tubi per la towncraft ok prendiamo questi bei tubi mi serve anche un tank i tank si fanno si fanno si fanno come si fanno il tank questo è il tank rinforzato a me serve il tank normale ah ok ok mi serve la legna bene 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 andiamo di chi e piazzichiamo per il momento i tubi così tank e te qui drento chi ci buttiamo la roba che non ci serve tipo buttiamo un pezzo di ferro e dovrebbe fare un bel po ok qua adesso noi mettiamo 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 mi servono dei cristalli mi servono dei cristalli vediamo che cristalli abbiamo in più da vendere mi sembra quelli verdi infatti prendiamo il quattro per il momento dai 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 ok quattro cristalli verdi madò che brutto rumore mettiamo i cristalli e la legna guardate ecco non basta perché è già finito per cui ci buttiamo un oro e fa gli enchanted wood il legno incantato poi ci possiamo buttare sì quella è la cosa scura entrando dentro infatti dovrei farmi male non sto a spiegarvi la towncraft ragazzi perché l'ho fatto anche qua mille video andate a vedere i video vecchi col carbone poco 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 e allora ci buttiamo tutti questi chi no la terra dai però dentro ok ora dovrebbe andare dai su ancora un paio diciamo vediamo un po via perfetto prendiamo questi due prendiamo questi due e che andiamo a fare abbiamo detto i tank perfetto allora facciamo così ne vengono due a non abbiamo più quel vetro lì porca trota niente facciamo il vetro così lupi mannari schifosi così così e così ne vengono due perfetto prendiamo i tank brutti rumori prendiamo i tank e ne mettiamo uno proprio qui voilà no pirletta ok lo mettiamo qua però vedete che entrato il liquido scuro noi il liquido scuro non lo vogliamo poi lo togliamo perfetto iniziamo a fare altre cose tipo 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 redstone e e e e e andiamo a prendere altre cose ordiniamo questi qua e ordiniamo 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 del carbone che non abbiamo va bene non abbiamo possiamo sempre prendere qua facciamo così c'è poco però vabbè un po di carbone esce ok prendiamo un bel blocco di terra che tanto ne abbiamo a quantità elevata ok dai corri ciccione andiamo lì ci buttiamo dentro anzi prima spacchiamo qua fate attenzione perché si potrebbe contaminare ma finché poco non succede niente gli rimettiamo il tank bello pulito ore e facciamo così 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 dov'è la terra qua ore ok qua adesso ci mettiamo redstone e questo chi facciamo un po di questi qua dovrebbero venire i fuochi ore ma si riempie sempre così porca trota ho fatti un po allora togliamo questi e mettiamo 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 cos'era carbone questi gialli no la redstone redstone e carbone tra tanti te dovrebbe fare i fuochi azzurri perfetto ecchi telichi ecchi telichi qui sto continuando possiamo già buttarci l'altro stack che ho preso ok facciamone un po dai l'ultimo 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 perfetto sono tre e uno quattro ora se prendiamo uno di questi e uno di questi dovrebbe fare l'arcane l'arcane singularity che ci servirà più avanti bene facciamo una cesta una cesta ok la piazzichiamo un attimo chi o le ci buttiamo dentro questa roba che serve per la towncraft i cristalli poi metteremo qua anche logistic e vi ho fatto abbiamo iniziato con la towncraft ragazzi abbiamo iniziate qui invece le quesitum il quesitum serve per ricercare alcune pergamene vediamo se riusciamo a ricercare una velocemente o magari lo facciamo nel prossimo episodio se non viene troppo lungo lo sapete per cui vi dico che spacca le foglie di canne da barbabietola zucchero e limoni e poi dagli occhietutto ce n'è un'altra ciao a tutti